Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo delle amministrative di Napoli, le elezioni comunali a Napoli. Restano fuori la Lega e le liste civiche di Maresca. Escluse quindi dalla competizione anche il movimento animalisti e un assostegno di Clemente. Salvini dice ma è una roba assurda. La mannaia della commissione elettorale cade su due liste civiche di Catello Maresca, ma anche sulla Lega, a Napoli senza simbolo, e sugli animalisti e su un assostegno di Alessandra Clemente, più un numero indefinito alle municipalità. Una doccia fredda soprattutto per il candidato del centrodestra, perché viaggia senza la Lega che si presenta senza simbolo. L'ex pubblico ministero dice non me lo aspettavo, speravo prevalessero ragionevolezza e logica. Caro ex magistrato, tu lo sai che nei regolamenti non prevale la ragionevolezza e la logica, ma prevale il regolamento. Il regolamento dice questo è il margine, se tu sei appena fuori non ci sei. Pertanto dovresti saperlo anche tu, ex pubblico ministero, che non prevale la logica e la ragionevolezza, ma prevalgono le regole. Noi eravamo dentro con una parte della documentazione, i coadiatori stavano portando il resto. Si vede benissimo in tutti i video, dice Maresca. Ci hanno impedito di portare la documentazione integrativa? Oggi ci dicono che non abbiamo depositato i documenti che erano giù, già all'interno del plesso. Le civiche escluse dalla tornata elettorale del 3-4 ottobre sono Catello Maresca sindaco e Catello Maresca, a cui si aggiungono, sempre per lo schieramento di centrodestra, prima Napoli, che sarebbe cioè la Lega e il movimento animalisti. Ovviamente l'ex PM annuncia ricorso. Quindi abbiamo scoperto che la Lega si presenta a Napoli, si voleva presentare a Napoli senza simbolo e senza nome. Come mai? Come mai Salvini ti presentavi a Napoli senza simbolo e senza il nome Lega? Come mai? Credi che i napoletani ce l'abbiano con te? Perché dovrebbero avercela con te? Ah, perché in passato saltellavi col bicchiere assieme ad altri offendendoli. Ah, sì, è vero. Mi ero dimenticato. Adesso capisco perché ci si presenta senza simbolo e senza nome. Avevo dimenticato quel piccolo particolare, quel video che trovate ancora in internet, no? Lui che saltella col bicchiere facendo quelle canzoncine da stadio. Eh beh, forse per quello, sì, dovrebbe, sarà per quello. Qual è il commento di Saldini? Annunciano ricorso anche i coordinatori regionali e i cittadini, cittadino della Lega. Valentino Grant e Severino Nappi. Siamo certi che la magistratura avrà gli strumenti e saprà valutare quanto accaduto e dunque potrà accertare che i nostri delegati erano già all'interno della struttura prima dello scadere del termine. L'esclusione di una lista cardine della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Catello Maresca sarebbe del resto un grave vulnus. E il leader nazionale Matteo Salvini commenta, a margine di un incontro elettorale a Cosenza, abbiamo già presentato ricorso. È assurdo che non una lista ma cinque vengano escluse perché l'ingresso è stato segnato alle 12.01. Clemente dice tempi celeri. Fuori, dicevamo, anche la lista Alessandra Clemente sindaco in corsa alle elezioni per il Consiglio Comunale a causa di un vizio formale rilevato nella presentazione della stessa. Stiamo lavorando al ricorso che presenteremo al TAR in tempi celeri, dichiara la candidata sindaco Alessandra Clemente. Siamo fiduciosi di un esito positivo. Quando avevate sentito prima Clemente cosa pensate? Che era Clemente Mastella? No, è un'altra Clemente, non Clemente Mastella. Beh, insomma, più che la Lega viene esclusa con un qualcosa di cui non sappiamo esattamente che cosa sia, se la colpa è di questi partiti che hanno presentato tardi la documentazione, l'hanno presentata incompleta, o realmente c'è qualcosa contro questi, chi lo sa. Quando si parla di queste cose non si sa mai realmente dove sta la verità. Io avrei un sospetto, un dubbio tutto mio, no? Ma vabbè, me lo tengo per me il dubbio tutto mio, perché è un dubbio che non ha nessun, ma nessun fondamento, è solo una mia sensazione. Però, Salvini, ti presenti a Napoli senza simbolo, senza scritto in Lega, con scritto Forza Napoli? Beh, Forza Napoli, insomma. Tu non eri proprio di questa idea qualche anno fa sul Forza Napoli, eh? Certo che lì sei al minimo storico, proprio nella città di Napoli. Beh, come dare torto agli amici napoletani. Dimenticare si può, però, si può far finta di dimenticare, ma le cose restano, eh? Le cose restano, io l'ho sempre detto. Ma vi immaginate la stessa cosa fatta da Giorgia Meloni? Vi immaginate Giorgia Meloni che saltella con un cori da stadio? Ve lo immaginate Letta, Conte, Di Maio? Ma anche altri politici a saltellare con un bicchiere in mano cantando contro un'intera regione? Beh, insomma. a dei comportamenti ci sono poi delle conseguenze, eh? Però, vabbè. Insomma, molti dicono ma sono cose del passato, bisogna superarle. È certo, è certo. Quando sei di Milano dici bisogna superarle. Se voi foste di Napoli non direste bisogna superarle certe cose, eh? Mannaggia. Vabbè. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina. No, beh, qui siamo su Teleitalia Seconda Rete, quindi ricordatevi che c'è anche Teleitalia. Vi invito ad iscrivervi a tutti e due i canali. E poi su Facebook questi video di Teleitalia Seconda Rete e Teleitalia li trovate dopo qualche ora in modo che li possiate poi condividere con chi voi volete. Ricordatevi che nella community di Teleitalia al primo canale ci sono tanti sondaggi. Qui non faccio a tempo a mettere i sondaggi anche qui. Realmente mi fa, mi manca materialmente il tempo per farlo. Quindi nella community del canale principale trovate gli sondaggi e link. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata e a presto.